Martedì 4 ottobre, San Nicezio, è il 277esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 88 al termine. Il sole sorge alle 7.12 e tramonta alle 18.46, la luna si leva alle 16.35 e tramonta a mezzanotte. Investite da un tremendo fortunale, quattro galere veneziane affondano nel porto della Valletta a Malta. Dopo quattro giorni le nabi vengono riportate a galla, ma purtroppo nessuno dei rematori incatenati ai remi è riuscito a salvarsi. Le previsioni per domani. Cielo sereno o in alcuni momenti poco nuvoloso. Probabili foschie o possibili locali nebbie in pianura e nelle valli durante le ore più fredde. Precipitazioni assenti. Temperature. Contenuto aumento in quota. Nelle valli, minime senza notevoli variazioni e massime in lieve aumento. Altrove, minime in diminuzione lieve o localmente moderata e massime in leggero aumento.